Allora, l'esito delle votazioni, quindi è stato eletto Presidente del Consiglio Direttivo con i seguenti voti 79 preferenze, Gemignani, Gabriele, Primo Come componenti del Consiglio Direttivo sono stati eletti Mazzarini, Paolo, 73 preferenze Gimignani, Francesco, 62 preferenze Groman, Liliana, 58 preferenze Cesaretti, Claudio, 50 preferenze Simoni, Gino, 4 preferenze Geli, Giuliano Geli, Giuliano Geli, Giuliano, dai Gli altri votati, ma che non rientrano tra i sei consiglieri eletti Barucca, Gianni, 32 preferenze Tonnini, Alessia, 30 preferenze E Crivellini, Paola, 28 preferenze Presidente onorario, frattesi Sono stati eletti componenti il Collegio dei Revisori, Bartolazzi, Pierfrancesco come Presidente con 68 preferenze E Balducci, Renzo con 62 preferenze Conta bene Conta bene, taglia bella polietta L'Assemblea inoltre ha deliberato di nominare quale Presidente onorario il Presidente uscente Frattini, Frattesi E sarà bene che Frattini E sarà bene 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 No, il Ministro Frattini Il Ministro Frattini Frattesi Applauso Siamo fatta Va bene Va bene Va bene A questo